Ciao, sono Marco. Nel video di oggi andremo a vedere le soluzioni offerte da Elementor per quanto riguarda i temi. Nei video precedenti che trovi suggeriti qua sopra abbiamo fatto una prima panoramica di Elementor sul sito di Elementor per capire meglio di che cosa si tratta, di che cosa può offrire a noi questo rivoluzionario plugin per quanto riguarda l'ambiente WordPress e abbiamo visto anche quelli che sono i prezzi per quanto riguarda le versioni a pagamento. Ricordo anche che abbiamo una versione gratuita, quindi se vogliamo iniziare un po' ad approcciare il mondo di Elementor e capire un po' come muovere i primi passi abbiamo anche il plugin in versione gratuita. Nel video di oggi invece andremo a vedere quelle che sono le risposte di Elementor per quella che è la costruzione, creazione oppure utilizzo di temi già esistenti su Elementor. Direi di non parlare quindi da santo tempo e andare a vedere di che cosa si tratta. Bene, vediamo un po' quali sono le soluzioni e i sistemi di Elementor per poter creare e usufruire dei temi. Partiamo con la prima sezione, TemBuilder. Abbiamo infatti qui la possibilità di, come ci dice la pagina, di controllare ogni parte del nostro sito. Abbiamo la possibilità appunto di creare header personalizzati, footer, template per le singole pagine, template per gli articoli, template per l'archivio e anche le pagine di WooCommerce senza dover utilizzare codice. Abbiamo la possibilità di configurare e tenere sotto controllo tutto in un unico posto. Abbiamo anche la possibilità di creare delle condizioni per cui possono essere visibili o non visibili alcune parti, alcuni blocchi della nostra pagina o tema che andremo a creare. Possiamo appunto modificare e vedere che cosa eventualmente deve essere magari mostrato oppure no. Allora, il TemBuilder, che andremo a vedere tra poco, lavora molto bene con HelloTem, cioè il tema starter, chiamiamolo così, di Elementor, che andremo a vedere tra poco. È molto veloce, non ha particolari necessità di stilizzazione ed è molto molto rapido e veloce nella risposta. Torniamo al TemBuilder. Noi possiamo, grazie al TemBuilder di Elementor, di fatto disegnare quello che è il nostro tema, dalla testa ai piedi, come dice. Non abbiamo limiti, possiamo appunto fare ciò che vogliamo con il massimo del controllo. Come vediamo infatti in questo screenshot abbiamo tutte le parti del nostro tema, partendo da leader, partendo dalla pagina del singolo articolo, le pagine di archivio, la pagina di errore 404, il footer e la pagina di ricerca e molte altre. Abbiamo appunto infatti quelle appena descritte, possiamo decidere come costruire il nostro leader, come costruire il nostro footer in totale libertà, possiamo costruire template per determinare quello che sarà il layout grafico della singola pagina o del singolo post, quindi del singolo articolo. Possiamo costruire la pagina di archivio per avere la lista di tutti gli articoli, oppure per le pagine di categoria o le pagine del nostro negozio online. Abbiamo la possibilità di fare un design anche per la pagina di ricerca, quindi di costruire una pagina di ricerca assolutamente originale, come ho già detto prima la 404 quindi a pagina di errore se si visita il caso in cui stiamo visitando una pagina che non è esistente e possiamo anche andare a personalizzare il layout del nostro store, qualora avessimo woocommerce installato con il woocommerce builder. Qua abbiamo appunto un'altra immagine esplicativa dove è tutto, ci fa vedere appunto che Elementor è totalmente visuale e senza codice, quindi abbiamo il drag and drop di tutti gli elementi che sono disponibili, possiamo posizionarli, mostrarli dove vogliamo senza utilizzare una riga di codice. Abbiamo la possibilità appunto di gestire al meglio il nostro prodotto, il nostro progetto, il nostro tema, grazie appunto a questo streaming del flusso di lavoro. ovvero noi abbiamo qua tutte le pagine che sono da dover, diciamo tutti i layout che sono da dover costruire, creare e sono tutti radunati e per ogni parte, per ogni sezione, quindi per leader, per i footer, per la singola pagina eccetera, abbiamo la lista di uno o più template se li abbiamo creati e se non ci sono abbiamo appunto questo messaggio che ci indica che non ci sono template ancora. Cosa succede? Avere tutto in un'unica parte, come dicevamo prima, ci permette di gestire al meglio il nostro flusso di lavoro, costruire il nostro tema senza dimenticare pagine o parti importanti, quindi all'interno di questo TemBuilder abbiamo tutto ciò che ci serve radunato per poter costruire al meglio il nostro tema. Quindi appunto siamo sicuri di non dimenticarci appunto nessuna pagina, nessuna porzione di pagina, header, footer e quant'altro, perché abbiamo tutto quanto radunato all'interno della stessa pagina. Abbiamo anche la possibilità di creare dei template, quindi dei layout grafici, partendo però da dei design già pre-costruiti, quindi possiamo scegliere tra appunto centinaia di design già pre-costruiti per noi, header, footer o interi template già fatti e possiamo prenderli e personalizzarli per quella che è la nostra necessità. Quindi possiamo anche pescare da questa directory, da questa library, dove possiamo poi ottenere in maniera originale il nostro tema perché andiamo a effettuare le personalizzazioni che vogliamo. Abbiamo anche la possibilità appunto di rendere la costruzione del tema diciamo professionale, che cosa significa? Significa che possiamo anche, come avevo già anticipato prima, costruire delle condizioni per cui se vengono verificate, vengano mostrati o nascosti determinati elementi. In questo esempio che vediamo in questa pagina, appunto abbiamo per esempio, possiamo vedere due header differenti mostrati in due sezioni diverse del sito. quindi nel blog header vedremo un header, invece nel main header vedremo un altro tipo di header, quindi per dire in un page vedremo un menu, all'interno degli articoli magari ne vedremo un altro, questo grazie alle logiche condizionali che possiamo utilizzare all'interno di Elementor. Quindi possiamo stabilire quando e come mostrare o nascondere un elemento. Per capirci un pochettino meglio, se ancora non fosse chiaro, noi abbiamo appunto la possibilità di creare in questo modo poi contenuti dinamici. Cosa significa? Che noi, per esempio, andiamo a creare, ed è un esempio più pratico, andiamo a creare quello che è un layout grafico, quindi una veste grafica per il singolo articolo, quindi per il singolo post, ogni pagina che poi verrà creata, quindi dinamicamente, ogni nuovo post avrà quel tipo di layout. Quindi noi semplicemente andremo ad aggiungere un nuovo articolo e l'articolo assumerà quel layout, proprio come se fosse un tema che magari abbiamo scaricato o comprato. Possiamo appunto aggiungere anche delle informazioni utilizzando i custom field, quindi i campi personalizzati, abbiamo anche alcuni plugin suggeriti che ci aiutano a creare dei nuovi campi che possono ulteriormente andare a personalizzare quindi il nostro tema e qua abbiamo un suggerimento su quello che è il layout di cui abbiamo già anticipato prima. Direi che a questo punto abbiamo terminato. Andremo a vedere nei video successivi le prossime sezioni per quanto riguarda la libreria e finalmente HelloTem. Bene, mi auguro che tu abbia trovato utile questo video. Se comunque hai dei dubbi, hai delle domande, scrivimele qua sotto nei commenti in modo tale che posso darti una mano per quanto più possibile. O ancora se stavi cercando qualche approfondimento, qualche tematica relativa al mondo Elementor oppure Wordpress in generale, WooCommerce, temi, plugin, espulciando all'interno del mio canale e non hai trovato quello che cercavi, lasciamelo anche questo scritto qua sotto così che magari posso trovare qualche nuovo spunto, qualche altra nuova idea per qualche altro video di informazione proprio come quello che hai visto adesso. In ogni caso comunque se questo video ti è piaciuto metti mi piace, attiva la campanella qua sotto e seguimi i prossimi video. Ciao!